Salve a tutti, buon martedì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Tra una decina di giorni circa, intorno come sempre al 20 gennaio, avremo accesso al prossimo cedolino delle pensioni sul sito IMSS, ovviamente relativo al mese del prossimo rato, ovvero febbraio 2024. Vediamo dunque un'anteprima di ciò che troveremo il prossimo mese. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Il cedolino di febbraio è un cedolino molto significativo in quanto in molti potranno vedere finalmente l'importo netto delle pensioni 2024 rivalutato. Lo scorso mese alcuni pensionati hanno subito con guagli IRPEF da parte dell'IMS e ciò non ha permesso loro di poter vedere gli aumenti. Alcuni infatti non hanno riscontrato alcun aumento per equativo sul netto e in alcuni casi hanno addirittura trovato l'importo della pensione inferiore. Esaminiamo ora un'anteprima di quello che sarà il cedolino delle pensioni di febbraio 2024. È importante notare che per coloro che hanno subito taglie a gennaio a causa dei conguagli IRPEF dell'IMS la situazione ora dovrebbe finalmente tornare alla normalità con la visualizzazione dell'importo netto della nuova pensione 2024 rivalutato al 5,4% o in base alla percentuale spettante alla fascia perequativa di appartenenza. Tuttavia è necessario fare attenzione poiché per coloro che non hanno ancora estinto il debito con l'IMS l'istituto continuerà ad applicare ulteriori trattenute anche questo mese come specificato dalla circolare di cui abbiamo parlato in un precedente video ovvero la 1 del 2 gennaio 2024 pubblicata da INPS. Come detto in un video degli scorsi giorni per coloro che affermano di non aver ricevuto ancora alcun aumento consiglio di guardare l'ordo sull'importo del cedolino a gennaio e di contattare INPS in caso di dubbi. Inoltre nel cedolino di febbraio potremo riscontrare anche i benefici della riforma IRPEF. Questi ultimi dovrebbero essere applicati già a partire dal cedolino di febbraio ma ne sapremo di più tra qualche giorno. Infine sul cedolino troveremo come sempre le addizionali comunali e regionali a saldo 2023 mentre da marzo si aggiungerà anche quella in acconto per il 2024. E' importante notare che molte di queste addizionali sono aumentate quest'anno nei vari comuni italiani come già visto nei cedolini di gennaio 2024. Questo dunque cosa aspettarsi nel cedolino del prossimo mese.